E' il 25 aprile e quindi si festeggia, si festeggia e si celebrano quelle donne e quegli uomini che hanno lottato e lottano per la libertà. E se in nome di quel valore ci tocca sentire le stronzate persone come Sallusti si permettono di dire su questa giornata, diciamo che per oggi sopporteremo, è un giorno di festa e vogliamo festeggiare. Buon 25 aprile.